Questa struttura è stata realizzata per proteggervi. Non sono quelli che dicono di essere. Non riuscirete a sopravvivere neanche un giorno là fuori. Andiamo! Possiamo farsela. Maze Run, la fuga al cinema. Possiamo dare inizio alla fase 2. Benvenuti nella zona bruciata. Il mondo esterno è tenuto insieme da un filo molto sottile. Oltre questa porta, inizieranno le vostre nuove vite.